E adesso io vi invito a chiudere i vostri occhi e allo stesso tempo fate un bel sorriso un bel sorriso sul vostro viso ed è difficile sentirsi tristi o arrabbiati o qualsiasi altra emozione negativa se voi state sorridendo perché dà un messaggio al corpo e se voi riuscite potete ridere ridete siate gioiosi noi siamo qui per sperimentare gioia e così con questa gioia questo riso che continua dentro di noi in ogni cellula che la possa sentire adesso in questa gioiosa celebrazione invitiamo il messaggio da Kryon vi saluto miei cari sono Kryon del Servizio Magnetico in questa settimana di nuovo esaminiamo le percezioni e i paradigmi e incoraggiamo tutti coloro in ascolto a comprendere una premessa il cambiamento che è in atto su questo pianeta è un cambiamento di coscienza punto è come l'essere umano sta iniziando a risvegliarsi a un diverso modo di pensare è un evento nell'umanità che è come un voltare pagina i sociologi lo vedranno e un giorno si troverà anche nei libri ci saranno diversi nomi per esso noi l'abbiamo chiamato il risveglio all'integrità ma ancora di più è un risveglio personale per ogni anima antica e per chiunque guardi questo programma anche se non è un'anima antica perché sta incominciando a riscrivere persino la natura umana ogni settimana in queste canalizzazioni di questo mese abbiamo avuto argomenti leggermente diversi finora sapete che abbiamo parlato della percezione di come reagite a certe cose e di come potete riformulare certe cose nella vostra vita così da non avere gli stessi risultati che non vi piacciono ecco di cosa abbiamo parlato è possibile che questo risveglio in atto sul pianeta questa elevazione di coscienza seppur minima è possibile che possa aiutare le persone e le loro vite e le cose che sperimentano ogni giorno continuiamo a parlare di un evento mondiale il cambiamento e l'avete visto in diversi modi è diverso dal mondo dei vostri nonni carissimi molto diverso e ora vogliamo riportarlo a voi a livello personale al modo in cui potete riformulare alcune cose che vivete regolarmente nella vostra cultura una delle più importanti è che tutti voi avete ad un certo livello è la paura ora una delle prossime volte in questo mese parleremo della preoccupazione ma è collegata a questa canalizzazione la cosa principale è la paura tutti voi ce l'avete tutti voi ce l'avete alcuni dicono no io non ce l'ho Crayon sì ce l'hai tutti voi avete una certa quantità di paura è quella che vi impedisce di gettarvi giù da una scogliera o che vi fa essere consapevoli quando scendete dal marciapiede è più dell'essere attenti nella vostra vita proviene da una paura di base e questo tipo di paura è una paura di sopravvivenza ma a volte questa paura di sopravvivenza si sovrappone alla paura che si manifesta per via di ciò che pensate ciascuno di voi ha un programma che dipende da ciò che i vostri genitori hanno fatto o vi hanno detto o ciò che vi è accaduto quando eravate piccoli voi siete programmati a temere delle cose e sono queste le paure di cui parliamo alcuni di voi hanno paura della vita non tutti voi tantissime anime antiche hanno scoperto questo ma molte delle paure di oggi dipendono dalla vostra cultura le possiamo chiamare paure di sopravvivenza all'interno della cultura ad esempio paura di perdere il lavoro è una grande paura paura che i vostri figli abbiano un incidente quando escono vanno a scuola o a fare qualcos'altro paura che accada qualcosa di inaspettato perché avete visto i notiziari paura che possano avere un incidente nel traffico e quindi ogni volta che escono di casa c'è paura ma alcuni non ce l'hanno e dicono aspetta Crayon ma questo non sono io certo ma ci sono molte persone che ce l'hanno per coloro che guardano questo episodio e questa canalizzazione avrete l'opportunità di condividere questa canalizzazione perché verrà pubblicata gratuitamente e potrete citarla se lo volete riguarda chi ha paura della vita come fate prima che arrivassi nella vita del mio partner era simile a questo c'erano tante cose nel lavoro che faceva che gli causavano ansie e paure e voi potreste dire che erano cose piccole ma per lui non lo erano proprio come per una madre non è una piccola cosa ciò che accade a suo figlio è paura e vi ripeterò che la paura l'ansia e la preoccupazione vi accorciano la vita avete appena ascoltato un estratto programmato per oggi che riguardava il bambino interiore e questa è una delle soluzioni per creare risate o scenari divertenti o cose da riformulare in qualcosa di più divertente perché adesso ne sapete di più quante delle paure che io vi ho elencato e che avete regolarmente pensate di aver creato le avete create pensando forse che il vostro interesse preoccupazione fosse di aiuto ma in realtà è paura la risposta è che la maggior parte le avete create qualunque cosa accada a vostro figlio quel giorno accade il 99% delle volte tornano a casa e tu lasci andare la tua paura perché è entrato in casa come è stato avere paura tutto il giorno mamma sapendo che così facendo stavi accorciando un pochino la tua vita è di questo che stiamo parlando quando il mio partner ha scoperto questa verità ovvero che la maggior parte delle paure che aveva erano create dalla sua stessa coscienza perché gli era stato insegnato a temere certe cose o perché prevedeva quello che sarebbe potuto accadere quel giorno e lui fece qualcosa a riguardo numero uno riconoscere la paura ho paura oppure oh cielo ho sorpreso me stesso a lamentarmi di qualcosa ma in realtà è una paura e se accadesse oh cielo anche parlando con altre persone oh cielo e se accadesse questo anche quando vi riunite con altre persone per condividere le paure creando una sorta di comitato della paura state amplificando le paure il mio partner ha fatto una cosa ovvero quando riconosceva la paura gli dava una personalità e la personalità era quella della grande palla infuocata nel film del mago di Oz quella era spaventosa la voce tonante del mago di Oz nella scena in cui incontrano il mago e poi scoprono un uomino dietro una tenda e la voce dice non fate caso a quell'uomo dietro la tenda ed era divertente e da quel momento in poi lui imparò a vedere ogni paura come uno scherzo ed è come se dicesse ehi ti vedo lì stai facendo del tuo meglio lo so che ti ho creato ma sai cosa sei proprio piccola quindi perché non ti siedi sul sedile posteriore per un po' so che sei lì e non posso liberarmi totalmente di te ma posso sempre prendermi gioco di te e funzionò funzionò per lui ciascuno di voi ha un processo per riformulare quello che avete creato e manifestato come paura quindi Crayon ci sta dicendo che non dovremmo interessarci alle sorti dei nostri figli no c'è differenza tra l'interesse e avere paura è di questo che stiamo parlando c'è qualcuno di voi che ha una continua paura per qualcosa la perdita di questo quest'altro che accada qualcosa perché è accaduto già prima vi rendete conto di quello che avete appena fatto avete impresso un programma nella vostra mente e ora lo state eseguendo lo manifestate ne parlate agli altri ed eccolo qui ma è falso completamente riformulare la paura è l'argomento ed è un nuovo paradigma per molti di voi che ascoltano questo innanzitutto riconoscete la paura e lo farete quando uscirà dalla vostra testa o dalla vostra bocca e direte ah sono io sono stato davvero programmato per temere questo forse perché vi è stato insegnato così o perché è accaduto a un vostro amico è riformulabile e potete lavorare su questo carissimi è un nuovo strumento per un'anima risvegliata si può dire che voi scegliete di aver paura ma ora potete scegliere di non averne più la scelta è sempre la vostra nella vostra vita nel risveglio cosa accadrebbe se mandaste amore alla paura e potreste dire forse stai esagerando un po' eppure è quello che molti hanno fatto perché hanno riconosciuto per primi che gettando amore sulla paura se ne andava via ridacchiando e dicendo beh ci ho provato magari la prossima volta sì provaci pure tanto non ce la farai questa è la risposta il bambino interiore non perdetelo perché sarà necessario per mandare via la paura io sono Crayon innamorato di tutti voi ci sono tantissimi nuovi strumenti carissimi che vi aiuteranno a vivere più a lungo e così è che vi aiuteranno che vi aiuteranno che vi aiuteranno Grazie.